Sta finalmente molto meglio Pierpaolo Fasano, docente speaker di Radio Alfa, originario di Leggiano, colpito in modo estremamente aggressivo dal Covid. Pierpaolo è diventato un vero e proprio simbolo di lotta e anche un simbolo di messaggio contro i negazionisti, lo ha voluto egli stesso. Ripreso questo messaggio prima dal suo amico Francesco Facchinetti e ieri sottolineato anche da Enrico Mentana. A 33 anni Fasano ha rischiato la vita a causa del Covid. Circa dieci giorni fa è stato ricoverato in gravi condizioni, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e anche se è giovane e senza alcuna patologia progressa ha dovuto affrontare un bruttissimo calvario che ha deciso di raccontare sul suo profilo Facebook. Il 17 novembre aveva descritto i sintomi che aveva, questo virus ti annienta, ti priva di tutte le forze, ti fa sentire uno straccio, febbre alta fino a 40 come se fosse in un forno, tosse continua, crampi allo stomaco, nausea, spossatezza, stanchezza, mancanza di gusto e olfatto. Lo scopo di Pierpaolo è stato da subito quello di smontare ogni teoria dei negazionisti secondo i quali il Covid sarebbe una banale influenza e che le persone giovani non hanno alcuna conseguenza. Le condizioni di Fasano si sono aggravate e il 19 novembre finisce all'ospedale Loreto Mare di Napoli alle 3 di notte dopo un'ora di attesa in ambulanza davanti al pronto soccorso di Polla. Per Paolo viene ricoverato in subintensiva, viene messo il casco per respirare meglio dove resta attaccato per diversi giorni nel terrore di peggiorare ulteriormente ed essere intubato. Spero di stare bene dopo essere riuscito da qui e di non approdare anche allo step successivo, dice. Davanti ai miei occhi c'è il corridoio delle intensive e da stanotte ho visto già due persone lasciarci, come se fosse normale così, impacchettati e caricati su un furgone. Il Covid-19 esiste, ha ribadito dalla sua pagina social. Oggi, per fortuna, le sue condizioni sono migliorate. Il 33enne è uscito dalla subintensiva, è riuscito ad alzarsi dal letto ed è anche, se è ancora debole, ha tutta la forza necessaria per andare avanti e non mollare, anche nel portare avanti il suo messaggio. L'energia gliela stanno dando i suoi studenti che in un lungo posto su Facebook lo hanno incoraggiato e sostenuto i studenti del liceo scientifico di Padula. Le auguriamo sinceramente di riprendersi al più presto e di tornare ad avere l'energia di sempre. Continui a pensare in modo positivo e a restare forte e sarà meglio ancora prima di accorgersene. Tenga a mente, continuano gli studenti, che questo orribile momento presto sarà solo un brutto ricordo. Pierpaolo Fasano, lo speaker di Radio Alfa originario di Teggiano, sta finalmente meglio e sta ancora continuando la sua battaglia contro il Covid e contro i negazionisti.